Dopo Forza Italia, anche la sezione provinciale di Lecco della Lega Nord si dichiara favorevole all'insediamento di un deposito della Fiocchi Munizioni a Lomagna. Il caso è stato sollevato dal Tavolo della Pace, coordinamento di cittadini e associazioni che, alla luce del progetto, ha espresso forti perplessità in merito e ha chiesto un incontro al Sindaco di Lomagna e al Presidente del Parco della Valle del Curone. Si ricorda, dichiara il Commissario Provinciale Stefano Parolari, che tali insediamenti sono sottoposti a un rigido percorso autorizzativo in seguito a rigide norme e gestionali che prevedono i rapporti di sicurezza oltre a autorizzazione e controlli del Ministero. Anche la compatibilità urbanistica, prosegue il Commissario Leghista, è molto rigida. Se dunque la proposta di insediamento della Fiocchi Munizioni è compatibile con le prescrizioni di legge, è ovvio che debba essere autorizzata senza alcun intralcio di origine politica. Non mancano però i toni polemici. Noi, prosegue Parolari, siamo iscritti al tavolo del buonsenso, non ad autoproclamati tavoli della pace. Semplicemente si tratta dell'esercizio della libera scelta imprenditoriale da parte di chi dirige un'attività che è parte integrante della storia del nostro territorio e che dà lavoro a 600 dipendenti. Non crediamo, aggiunge il Commissario Leghista, che è un'impresa che produce munizioni sia di per sé rischiosa per il mantenimento della pace. Visto quali sono le armi utilizzate dagli ultimi attentati di matrice islamica, dovremo allora impedire il parcheggio dei camion. Consigliamo al tavolo della pace, conclude Parolari, di utilizzare al meglio il proprio tempo, unendosi a noi piuttosto nella richiesta di controllo ed eventuale chiusura dei centri di culto abusivi nella nostra provincia. Nei limiti dei nostri poteri vigileremo che la vicenda Fiocchi Munizioni venga gestita nell'interesse pubblico e nel legittimo interesse privato garantito dalla Costituzione.